Poste Italiane dedica un francobollo alla città di Montesilvano, grazie allo scatto del fotografo Walter Savini, attivando un servizio temporaneo con l'annullo speciale del primo giorno di emissione. La cerimonia di presentazione del nuovo bollo postale si è svolta presso il Paladin Martin, dove Poste Italiane ha presentato il francobollo ordinario emesso dal Ministero delle Imprese del Made in Italy e relativo alla serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, come spiegato dalla sottosegretaria al MIMIT, Fausta Bergamotto. È un annullo molto interessante questo di oggi perché è nel pieno contesto, ovvero sia la mia regione. Io sono un sottosegretario alle Imprese del Made in Italy, ma ho tra le altre anche la delega alla filatelia e quindi per me è motivo di orgoglio essere qui e riconoscere a questa città che attraverso il sindaco ci ha inoltrato una motivatissima richiesta. Abbiamo concesso questo annullo filatelico per una città che lo merita. Lo merita perché nel suo contesto turistico, nel suo contesto paesaggistico, nel suo contesto storico e quindi oggi la premiamo. All'evento di presentazione è intervenuto anche Marco Di Nicola, in rappresentanza della struttura nazionale di filatelia per poste italiane. Il francobollo che è concesso dal Ministero delle Imprese Made in Italy non è una cosa che avviene per moltissime città, moltissimi personaggi, moltissime attività. Quindi ottenerlo significa che c'è stato un occhio di riguardo del Ministero per rappresentare nell'eccellenza del sistema produttivo o in questo caso nel sistema turistico delle città un'eccellenza dell'Italia. I francobolli che si emettono in un anno sono circa 70 e quindi rientrare in questo strettissimo numero di emissioni è un privilegio e un onore. Le corrispondenze presentate alla postazione, aperte al pubblico dalle 11 alle 13 e dove sono stati messi a disposizione anche folder, cartoline, tessere filateliche, bollettini illustrativi sono state timbrate con l'annullo filatelico che per questo primo giorno di emissione resta a disposizione dalle 8.20 alle 19.05 anche presso l'ufficio postale di Montesilvano Spiaggia in Corso Umberto I. Anche i francobolli hanno una tiratura, quello di Montesilvano che tiratura avrà? I francobolli hanno tiratura limitata, questo in modo particolare ha una tiratura di 200.000 a 4 esemplari. I 4 esemplari sono perché c'è una politica industriale di stampa e quindi comunque insomma si stampano in fogli e ovviamente saranno utilizzati fino all'esaurimento della scorta prodotta.